Siamo a Roma presso il Ministero della Salute in occasione di un incontro incentrato sul diabete dove è stata presentata la settima edizione del Barometer Report. In questa occasione abbiamo il piacere di parlare con il professor Giuseppe Novelli, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha voluto fondare questo osservatorio sul diabete coinvolgendo oltre che le proprie strutture anche esperti nell'ambito clinico, sociale, economico e politico. Quale sarà lo sviluppo futuro che l'Università di Roma Tor Vergata vuole dare a questo osservatorio che trova estrema attenzione a livello internazionale e istituzionale? Soprattutto promuovere la ricerca perché è imperativo il fatto che noi per curare, per stabilire i fattori di rischio, per trovare i farmaci giusti dobbiamo fare ricerca. Quindi uno dei ruoli che ha questo osservatorio è appunto di osservare e quindi capire, ma quando uno osserva di anche sperimentare e imparare. Questo deve fare il libido, quindi stimolare anche i giovani a fare ricerca scientifica in questo settore che è fondamentale. Le idee migliori oggi ce l'hanno i giovani, noi dobbiamo guardare a loro.